Quando c'è stata la Dark Polo Gang, io ho detto questi sono i nuovi giamelli diversi e loro stessi lo dicevano. Ha un senso. Passa dal basement, passa dal basement, passa dal basement! Passa dal basement. Sono veramente, veramente contento che tu sia qui. Te l'ho detto anche prima. Anch'io sono contento di essere qui. Anche prima, ma no, in realtà io credo che ci sia sempre un... cioè che nulla accade per caso. E questa cosa in realtà succede oggi, in un momento in cui tu hai fatto uscire un video particolare poco fa. Cioè oggi è uscito, qualche ora fa io l'ho visto. Poi quando uscirà questo video probabilmente l'avrete già visto e rivisto da diversi giorni. Ma per noi è appena uscito e che comunque ha a che fare con il momento in cui ci siamo conosciuti e adesso eccoci qui sostanzialmente. Intanto sono contento perché ci tenevo a farti vedere il basement. Il tuo tempio. No, beh, anche perché abbiamo diverse passioni in comune. Una ti ringrazio per il regalo, raga. Esatto, ti ho portato anche un giocattolino da mettere da qualche parte. Tra l'altro dimentico ogni tanto che il video va su YouTube, quindi benvenuti su questo canale. Iscrivetevi, spese tutte quelle cose che funzionano un casino. Iscrivetevi al canale. Spero, insomma, sono contento perché queste chiacchierate stanno crescendo sempre di più. Ed è bello perché ci sono sempre delle cose interessanti che vengono fuori. In particolare anche la passione di Grido per Ritorno al Futuro. Per chi non lo sapesse, tu sei per me, ma credo per tanti, il più grande fan di Ritorno al Futuro. Beh, io che così fan... Diciamo che chi è fan di Ritorno al Futuro è super fan. Esatto, nerd. Esatto, io mi ritengo fan, ma tu sei una roba che va oltre e questa cosa l'hai creata tu. Esatto, di Ritorno al Futuro è del 3D, della stampa 3D e del bricolage e quindi in realtà metto tutto insieme e faccio cose come questa. Anche perché ogni volta che ci sentiamo, ci vediamo, tu stai costruendo una cosa, sei uno step successivo. O sto sperimentando uno dei cento fallimenti che devi fare prima di riuscire a fare qualcosa. No, perché secondo me la prossima volta che vengo a casa tua sei con la macchina, cioè con la DeLorean, sulla DeLorean. Ne ho un paio di modellini che sono stati impegnativi come quella vera da montare, però non ho ancora quella vera. Sì, sì, sì. Però mi diverto a fare questa e la mia prossima missione è farlo in scala 1 a 1. Bello. E se ci riesco a farlo volante in scala 1 a 1, giuro che te lo porto qua. Mamma mia, roba epica. Anche perché qua appunto davvero a Nerd Quale Sei ci sono tante cose che ci tendono a farti vedere, i Lego in particolare, perché tu oltre a fare Lego, io o meno faccio i Lego, mi piacciono, ma parto dalle istruzioni. Tu sei un mastro costruttore, come in Lego Movie. Ci provo, ci provo. Salverò il mondo con un Lego divano. Però qual è il tuo set Lego preferito in assoluto? Vabbè, adesso stiamo parlando di Ritorno al Futuro, quindi la nuova DeLorean. Ah, diventa subito. Ho anche la casa di mamma, ho perso l'aereo, la caserma dei Ghostbusters, tutte robe legate alla nostalgia degli anni Ottanta. Tu hai creato, in casa c'è una sorta di città con tutti i pezzi. La caserma Lego te la invidio, la caserma dei Ghostbusters te la invidio un sacco. Quello è stato un regalo della mia futura moglie, quindi vedi, mi ha preso subito così i regali. Tra l'altro di un bel po' di anni fa ormai. È vero, tra l'altro citi il fatto che tra poco, perché ci sono state in mezzo un po' di cose, tipo pandemia, c'è stata una pandemia e adesso se non arriva un asteroide mi sposo. Dovrebbe succedere, la data è stabilita. La data è stabilita, non diciamola, così non teniamo questo allone di mistero. Solo sapere se c'è tutto piazzato. Tutto a posto. Ok, ok, ok. Ti dicevo, sono molto contento perché nulla accade per caso, perché io a grido devo tantissimo, quindi lo dico, perché sei stato una delle prime persone a credere in me quando ancora non lo faceva nessuno. Ma guarda che non è un mio merito, erano gli altri che erano indietro, che non c'erano ancora arrivati. Io semplicemente ci ho visto lungo. Però uno dei video a cui sono più affezionato per tanti motivi, anche perché è uno di quelli che è andato meglio e poi perché appunto significa tanto per me, è quello che abbiamo fatto insieme. Me l'abbiamo fatto insieme in un momento in cui io mi stavo dando un sacco da fare, lavoravo a Radio Number One ancora, mi alzavo al mattino alle quattro, facevo l'agenzia via, facevo mille cose, ma avevo questo desiderio di raccontare quello che avevo dentro, che avevo vissuto, quindi era la mia vita in periferia, a Cologno, e per me da Colognese, diciamo, vedevo te e tuo fratello come quelli che ce l'avevano fatta. E quindi in qualche modo siete stati per me un grande boost nei momenti di difficoltà, perché quando ero un ragazzino mi rappresentavate nella musica, ma nel mondo, cioè in Italia in generale, quindi mi sentivo tanto rappresentato da voi. Incredibile che qualcuno che arrivava da Cologno stesse riuscendo a fare… Sì, sì, ma soprattutto poi è anche orgoglioso del proprio percorso. Esatto, anche perché Cologno, o meglio, la periferia, le tue radici, sono una cosa che è una sorta di paradosso per me Cologno, perché appunto è quel luogo dove inizi, hai la voglia di fare perché te ne vuoi andare da lì, perché dici… però fondamentalmente il fatto anche adesso di essere tornato a fare una delivery lì, di parlarne in questo modo io e te, è perché comunque lo vuoi rappresentare, onorarlo il tuo luogo di provenienza sempre, almeno per me è così, quindi per me è un orgoglio tornare lì, girare un videoclip e dire sono tornato in quartiere e sono ancora qua. È stato fighissimo quel video che si intitola Storia di ordinaria periferia, racconta, insomma, io avevo scritto banalmente una mail, avevo provato in diversi modi a scriverti che avevo scritto via mail, raccontandoti l'idea, quindi dicendosi insomma questa cosa, che io facevo questi video in cui raccontavo delle cose che mi sarebbe piaciuto e tu mi hai dato questa possibilità di fare questo video insieme a te e non solo, perché poi abbiamo fatto in due parti, siamo andati anche al concerto di Axe, dove chiesi bene anche tu… Ma perché avevamo una bella storia da raccontare e poi, a proposito di questo, a me, quando tu mi hai inviato questa mail, ovviamente sono andato a vedere un po' quello che facevi e mi ha colpito subito il tuo essere uno storyteller, capito tu? Non mi hai proposto facciamo un'intervista o facciamo una promo a questo o a quell'altro, mi hai proposto raccontiamo una storia e io ho visto il modo in cui tu raccontavi le storie e ho detto sono troppo contento, è quello che voglio fare. È stato bello e poi in quel video lì andiamo proprio in giro a raccontare i posti che hanno caratterizzato la vostra infanzia, che in qualche modo io ricordo quando, appunto, invece giravo anni dopo di voi negli stessi posti, dicevo ah ma lì, quello è quello che canta nella canzone, nel pezzo dice di quella panchina lì, di quel parco lì, di quel quartiere lì, in particolare il quartiere Stella, che oggi è il protagonista, o comunque è lo sfondo del delivery che è uscito oggi, quindi in cui mi riaggancio al video del pezzo che hai fatto uscire, dove è ambientato tutto lì e non è, cioè noi, è da un botto che ci dobbiamo vedere ed è successo oggi. A volte si allineano i pianeti, vedi? No, no, è vero. Ma perché ho voluto proprio andare esattamente nei posti in cui sono cresciuto, cioè non rappresentarlo in maniera romantica, cioè con una cartolina, andare proprio esattamente dove stavamo, quindi nel campetto dove sono con la macchina arancione, è esattamente dove noi stavamo, il quartiere dove andavo a suonare il citofono per far scendere gli altri e poi magari andare a dipingere, andare a fare freestyle o a prendere la metro a Cologno Nord, che si vede nel video, per poi arrivare a Milano, capito? È proprio una roba… Comunque è molto rialtratto anche io quando ho fatto il video del lancio, di quando ho fatto uscire il libro, ci tenevo e ho fatto girare, sono dei video in cui c'è lo sfondo sempre del quartiere Stella, quindi è una roba che comunque… Sì, perché poi è figo, ha il suo fascino, sarà che sono cresciuto lì, ma ha il suo fascino. E poi c'è anche una location nella Delivery dove abbiamo girato uno dei video dei gemelli diversi, sarà il cemento, uno dei primi video, c'è quel campetto sotto la metro, sono tornato esattamente lì, sono cambiate un bel po' di cose intorno, i colori, i muri, hanno costruito delle palazzine nuove, ma il campetto da basket sotto la metro è ancora identico e quindi dovevo girarci ancora. Per forza, perché alla fine poi sono tutti dei cicli, a volte dei cerchi che si chiudono. Tra l'altro quando avevamo girato quel video tu eri Guido ancora. Esatto, era quel periodo un po' confuso. Hai fatto un change e poi sei ritornato Grido. Assolutamente sì. In tutto questo sei sempre stato Luca in mezzo, no? Quello non è mai cambiato. Non è mai cambiato, anche perché Grido, forse vecchia scuola, ma è sempre della filosofia Keep It Real, no? Quindi Grido e Luca, e Guido anche, che era una scheggia un po' impazzita sempre della mia personalità, sono fondamentalmente la stessa cosa da sempre, da quando ho iniziato a scriverlo sopra un muro. Quindi Luca c'è sempre. Poi il soprannome con cui ti fai chiamare magari può mutare un po' nel tempo, ma la mia matrice è sempre quella, io sono Real, non mi invento un personaggio. No, anche perché quando, quella cosa che mi colpì molto quando giravamo quel video è che mentre andavamo in giro è capitato in diverse occasioni che ci hanno fermato amici tuoi o gente comunque che ti conosce. Cioè proprio il ritorno al quartiere, quella roba lì. Ma perché poi vedi lì quando c'erano le immense compagnie, come le chiamavano Piazzali, ci conoscevamo un po' tutti, no? Cioè poi io veramente sono di quel momento storico in cui le compagnie dei, non è assolutamente dispregiativo il termine, ma degli zarri, di quelli che seguivano la discoteca, e dei rapper hanno cominciato ad unirsi, quindi eravamo veramente tanti a ritrovarci in piazza e ci conoscevamo più o meno tutti. Però hai visto che dopo un periodo dove non se ne è più parlato, adesso il discorso della periferia è ritornato nella musica, nel rap in particolare. Cioè è ritornato quel vanto del vengo da, faccio da... Adesso si parla tanto di Rozzano, si parla tanto di... Ma perché ti identifica in un certo senso. È un senso forse di appartenenza. Cioè poi io parlo personalmente, per me non è un vanto essere di Cologno, però è una caratteristica. Cioè capisci, riuscire a fare determinate cose, arrivando dalla periferia, arrivando da un determinato contesto, può essere interpretato, e dirlo e rimarcarlo, può essere interpretato come per dire ah io ce l'ho fatta avendo il mondo contro, ma non è esattamente quello il senso, capisci? È io ce l'ho fatta nonostante tu pensassi che non potevo farcela, capito? Invece poi ricordarlo, rappresentarlo, vuol dire ricordare per me alle persone che puoi farcela, anche se arrivi da lì. Non che hai un muro contro, anzi il contrario, che il muro non c'è. Però è impensabile, secondo te oggi un rapper può arrivare da San Babila? Ma se spaccareppare sì. Se spaccareppare sì. Poi diciamo che appunto, in base a come vanno le wave, le mode, a volte fa più figo arrivare dal quartiere, a volte fa più figo non... O anche non arrivarci ma dire che ci arrivi, perché poi c'è anche tutta quell'altra cosa lì. Che ripeto, io schivo e non conosco perché... Poi ci rimango sempre male, a volte ci sono dei rapper che dico questo chissà che vita ha fatto per arrivare qui, poi scopri che invece in realtà hai tutta una maschera che hai messo davanti e ti... mi scende il valore di alcuni anni. Nel rap secondo te quanto è una maschera il rapper e quanto in realtà è la persona? Cioè coincide? Oddio, oddio. Non lo so, secondo me non c'è una regola che vale per tutti. Posso dire che ultimamente si scimmiotta molto l'America o la Francia. Vedo le stories di ragazzini che magari parlano usando gli slang degli altri e non più bella zio, come dicevamo noi o i Dogo, capito? Che è comunque una roba... Sì, è sempre quella formula lì ma crei un tuo slang, ce l'hai come quando parliamo io e te. Io adesso non so se questi ragazzini parlano normali tra di loro e poi quando fanno gli stories dicono you know what I mean o quelle robe o se parlano così davvero tra di loro, perché io quando li vedo in giro non li vedo scimmiottare così tanto l'America come poi li vedo... Quando si accende una telecamera o un telefono. Esatto, nelle stories o anche nel video, anche perché poi adesso si è mischiato tutto, no? Prima giudicavi l'immagine o l'iconografia di un rapper dai suoi video, dalle sue copertine. Adesso quasi non esistono più video e copertine, però vedi qualunque cosa nelle stories. Certo. Poi magari scopri che qualcuno parla in maniera diversa o si atteggia in modo diverso appena accende la stories. Io invece non me la aspetto, per me la stories è esattamente quello che sei. È la stessa cosa. Cado un po' in quell'imbroglio lì. No, tra l'altro tu sei molto da sempre attento a quello che ti gira intorno. Cioè hai un sacco di passioni, un sacco di cose, tante volte hai intercettato anche trend prima di altri. A volte però, questo te lo chiedo proprio sincero da amico, il perché a volte non utilizzi i social come in realtà sai, nel senso che tante volte tu sei stato uno dei primi a fare i vlog, a fare i vlog su YouTube. Perché forse quando li fai prima ti torna contro, quindi poi mi disaffeziona. Perché tu in realtà è una sorta quasi… adesso sei tornato un po' a usare i social, no? Sì, io non sono molto social, mi diverto a usare Instagram, Facebook di riflesso, però sì sono… Cioè si vede che è una scelta tua? Sono un po' nel senso, custodisco, non mi piace, come posso dirti, condividere tutto. Cioè anche i momenti che magari per me sono noiosi. Fare la diretta dove non dici niente, dove ti metti lì, sto due ore con voi, vediamo cosa ne salta fuori. Non lo so, non mi prende, non riesco a farlo, sento di annoiarmi e di annoiare. Quindi piuttosto preferisco fare una cosa più mirata, legare i miei post a quando faccio un videoclipo, quando ho qualcosa veramente che mi va di condividere, non mi va troppo di condividere proprio la mia vita. Cioè vuoi legarlo più alla musica, più al lato professionale. Magari quando sono in giro a divertirmi, incontro qualcuno di particolare, cosa mi viene voglia di fare la stories, ma non lo faccio con uno scopo social, lo faccio veramente per condividere, sarò troppo vecchio a scuola. No, beh in realtà tu ne hai vissute tante, nel senso che tu hai fatto storia da un certo punto di vista. Io non riesco a rendermene conto, ma me lo dicono. No, è così ovviamente, sia con i gemelli che come poi anche quando ti sei messo per i fatti tuoi, diciamo così. Diciamola così. E come è cambiato tutto quello che ci sta intorno? Cioè con i gemelli cazzo… Oddio, sono passati… Cioè c'è stato un periodo che, vabbè, a parte che i numeri li conoscerai tu meglio di me, però quando i dischi si comprava, cioè quando uno usciva comprava il disco e spendeva dei soldi… È cambiato tutto, perché, allora, piccolo preambolo, io ero veramente un ragazzino, io ho iniziato a lavorare al primo disco dei Gemelli diversi, tralasciamo la gavetta, che avevo 17-18 anni, li stavo compiendo, quando è uscito ed è scoppiato 19, quindi comunque ero veramente… Tu eri più piccolo del gruppo. Ero il più piccolo del gruppo ed ero, tra virgolette, quasi inconsapevole di quello che stava succedendo intorno a noi a quel livello, capito? Io riconoscevo la gente, ho cominciato a vedere che giravamo tutta l'Italia, che c'erano ragazzi che mi dicevano sei un grande e si vestivano come me, ma non avevo… cioè l'ho capito anni dopo, l'impatto veramente a livello nazionale che aveva la nostra roba, la nostra musica, e grazie a Dio, perché questo mi ha permesso di essere un po' incosciente e di non curarmi di determinate dinamiche legate al mondo discografico e continuare a fare musica perché mi piaceva farlo, per passione, perché era quella che volevo fare. E quindi è stato figo. Certo. E tu mi hai chiesto cosa è cambiato. Attorno. Attorno è cambiato il mondo, perché appunto io ero un ragazzino, adesso ho superato i 40, sono passati vent'anni, in vent'anni con l'arrivo di internet, YouTube, le piattaforme musicali, è veramente cambiato tutto, sembra una frase fatta, ma… È cambiato anche il percepito nei… Ah, mi sto dimenticando anche i telefoni, i cellulari, non so, sono veramente tante le cose che sono cambiate da suonare il citofono e dire c'è Marco, che quando io avevo 16 anni ho iniziato questa cosa del rap, fino ad oggi dove siamo perennemente connessi, ma… Cioè come sarebbero stati i gemelli diversi con i social? Cioè mi hai pensato, se fossero stati oggi in questo momento… In questo momento dico, grazie a Dio non c'erano i social, perché noi così siamo riusciti a mantenere questo alone di band nazionale popolare, di ragazzi per bene, in realtà eravamo… Beh, anche se comunque qualcosina si poteva intuire, visti i soggetti… Eravamo dei ragazzacci ancora sporchi di periferia, c'è stato un 5, forse 10 anni in cui io e Strano uscivamo quasi ogni sera, quindi la nostra vita era concerti, club, Certo, e nel momento in cui voi eravate in hype totale come gemelli… Veramente, veramente wild, alcune situazioni che grazie a Dio non sono… Non sono documentate… Non sono state documentate, o se lo sono sono rimaste in archivi privati… Certo, no vabbè quello è… però ogni tanto… cioè voi siete stati comunque i primi a fare un genere che oggi invece è accettatissimo… E tra l'altro i primi anche a cercare di… o meglio i primi… tra i primi… a cercare di sdoganare, cioè di abbattere delle barriere, cioè perché ovviamente sempre per istinto e senza voler essere portatori di chissà quale battaglia, però a noi i ritornelli, per esempio, ti faccio un esempio, i ritornelli cantati piacevano, continuano a piacermi, poi sai, può piacerti la mia musica o no, ma il concetto di mettercelo non può essere sbagliato, a prescindere… Invece per anni, sembra incredibile… Ma questo accadeva, hai gemelli diversi, venduti, commerciali perché fate i ritornelli cantati, basta, l'obiezione era questa… Sì, 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 sì… E a me sembrava veramente una cosa… da neanderthi al partito, dicevo ma come? Ma perché? Ti ricordi la cosa più surreale di quel periodo che hai vissuto? Ora è all'ordine del giorno questa cosa, no? No, ora è… ora lavorano per fare quella roba lì, per creare… Anzi… Cioè, insomma, adesso io non voglio fare, però… Se non lo fai, quasi ti manca qualcosa e anzi, il fatto di rimanere urban e comunque avere una credibilità di strada, chiamiamola così, anche se cambi genere, può succedere. Certo. Invece… Prima non era… Prima facevi un pezzo con la chitarra e non col biccola… E secondo te come mai? Cos'è successo? Perché adesso è così? Allora, secondo me perché c'è stato un… un… tutto un passaggio di… di gente che voleva opporsi a questa cosa. Poi sono arrivate le nuove… le nuove generazioni, i ragazzini più giovani, come Sfera e Bassa, che non aveva nessun problema ad ammettere io mi ascoltavo i gemelli diversi e non i sanguevisto. Ok. All'inizio c'è stato lo shock e poi questa cosa è stata digerita, cioè si è cominciato a capire che alle nuove generazioni interessava la musica… Certo. L'emozione… Quello che ti dava, il pezzo… Quello che ti dava il pezzo, tutte le menate, i paletti, il come è giusto fare il rap, era una roba che aveva imposto qualcuno che nel frattempo per loro, per questa nuova generazione, era diventato vecchio e quindi non contava niente quello che diceva… Era un po' come voler combattere per forza il nuovo perché sennò va a danneggiare quello che ho fatto io fino adesso… E succede sempre, questa cosa di cercare di combattere il nuovo succede sempre, a prescindere no? Infatti anche queste… gli Sfera e Basta hanno avuto… Sì. Chi ti diceva tu non c'entri niente con questa roba… Ah voglio. Per fortuna adesso… per fortuna e sfortuna il modo in cui è cambiato fruire della musica ha portato sì che di certe cose non gliene frega più niente a nessuno e nelle playlist puoi passare da… Da un generale all'altro… Un brano dei gemelli diversi a… non dico chi perché sennò… Certo. Sembra che voglio trovare l'opposto… No, 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 no… Beh chi sono i gemelli diversi oggi? C'è qualcuno secondo te che fa… non ovviamente lo stesso… però che sta avendo un impatto… Allora questa sembra una bestemmia… ma quando c'è stata la Dark Polo Gang… io ho detto questi sono i nuovi gemelli diversi… Beh ha un senso… E loro stessi lo dicevano… Ha un senso… E prima stavo per dire… sai noi eravamo visti come la boy band educatina che arrivava… Sì. Ma quelli delle radio… Non la vedevano così… Certi le robe che ci conoscevano o le persone di MTV… Sì. Sapevano e sanno tuttora che noi quando arrivavamo nel post eravamo più simili alla Dogo Gang… Scusami… A Dark Polo Gang che… Certo. Che… 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 Che non ne dico una… Sennò arrivano i fan subito… Sennò subito un diss… No, però su quella roba lì… E ancora oggi tanti dei pezzi che… Che avete fatto all'epoca… Funzionano ancora da Dio… Cioè… Sono quelle cose che sono rimaste, no? L'altro giorno mi ritrovavo alla fine di una serata con degli amici… Dopo cena… Hanno messo un po' di musica… Quando è partita… Mary era probabilmente… No, era… Tu no… E… Impazziti tutti… Ci sono quelli che io chiamo i singoloni dei gemelli diversi… Che… Basta… Sono quelli… Non… Non ve li toglierete… No… Ma quella poi è anche un po' la misura di quanto è forte… Quanto è stata forte la cosa… Quanto è forte il pezzo… O quant'altro… Tra l'altro… Anche adesso con le delivery, no? Una cosa cui… Tu tieni molto… Io lo apprezzo tanto… Sono le rime… Ah beh… Che sembrerebbe una cosa elementare… Ma in realtà… Ma infatti… Non è così… In questa dico… Che disagio… Qui delle rime a nessuno frega più… È vero… È vero… Però cercherò di non dirle adesso… Frega più niente… Però adesso mi sembra che ci sia di nuovo un… Un… Quasi un rito… Ma grazie a Dio… Come se per anni… Non importasse nessuno… Adesso invece sta ritornando ad avere un… Un valore… Io ti parlo personalmente… Quando vedi… Che una cosa sta… Come dire… Questa cosa delle rime… È parso che negli ultimi anni… Non contasse… E a me dava fastidio… Dicevo… Ma… Ma perché? Questa roba è una cosa importante… È bello quando un rapper ci mette le skill… Dimostra di saper fare qualcosa… Cioè… Stimola la crescita di questo genere… Perché non lo fanno? Mi fa venire voglia di farlo… Capito? E quindi mi è tornata voglia… Secondo me questa cosa è successa a un po' di persone… Certo… Quindi… Al di là di seguire le wave… Di fare la roba che è catchy in quel momento… Poi… Se lo fai perché vuoi comunicare qualcosa… Comunque i tuoi bisogni saltano fuori… Il mio bisogno era quello di dire… Oh nel rap bisogna rappare… Certo… Bisogna fare le rime… E quindi sto facendo quello… Mi sto divertendo come un pazzo… Sì… Perché è veramente quasi un prequel… Però anche la delivery è un po' un linguaggio attuale… Dato che dicevo… Tornando a quello che dicevo prima… Tu sei molto attento a quello che succede… Cioè lo sai tutto quello che sta accadendo intorno a te nel mondo della musica… In tanti campi… Tu comunque hai continuato e stai continuando a lavorare… Magari nessuno lo sa che hai fatto determinate cose… La delivery in realtà parla la lingua di oggi… Quindi fai uscire quello che alcuni chiamano il freestyle… Del momento… Il video… Che cosa… E… Insomma… Questo… Tu adeguarti anche al linguaggio attuale… Su che cos'altro lo stai vedendo… O lo vuoi… O lo vuoi… Diciamo intraprendere… Beh… Diciamo che appunto… Mi piace questa forma in cui sto pubblicando… Come hai detto tu… Faccio freestyle… Totalmente… Passami il termine… Grezzi… Sì… Ovvero mi piace… Proprio è una dichiarazione di intenti… Questa di fare il video da solo… Di andare in quartiere… Quindi dare importanza alla location in quel senso… Ma senza costruire fronzoli… Senza affittare le macchine… Non che ci sia qualcosa di sbagliato nel farlo… Ma poi… Sai… Sposta un po' l'attenzione… Volevo che invece queste delivery fossero palesemente… Basate sulle rime… E metterci la faccia… Capito? Sì… E quindi le sto pubblicando… E nel finale delle delivery… Spoilero quello che è il pezzo che caricherò… Sì… L'ho visto… Successivamente… Quando vai da mass… Esatto… E faccio vedere lo studio che poi… Fondamentalmente come per te… Sì… Sì… È il luogo dove sono a casa veramente… Quando mi metto in registro… Creo le canzoni… Quindi lo studio per me… È sempre figo da far vedere… Sì… È un elemento che mi piace… Spoilero quello dopo… E pubblico singoli su Spotify… E sulle altre piattaforme… Voglio farlo per tutto il 2022… Infatti mi stanno chiedendo… Mi chiedono… Ok… Ma quando il disco… Come se fosse obbligatorio… Certo… A dire… Ok… Sto buttando fuori questo… Perché… Devo promuovere il disco che arriva… Creo l'hype… No… Non è per quello… È proprio… Per lasciare delle tappe… Per teaserare anche un po'… Mi sono proposto di fare questa cosa nel 2022… A inizio dell'anno… Per me stesso… Per mettere… Volevo che la musica… Che la nuova musica… Fosse scandita… Secondo questi ritmi… Quest'anno… E fosse questa… Quindi io adesso ho già le canzoni pronte… Che voglio tirare fuori… Anche nella prossima parte dell'anno… Ma le voglio dosare… Non voglio far uscire un disco… Forse perché sono pazzo… Forse perché appunto… È un modo nuovo… Ma secondo te ha ancora senso… Il disco… Nel 2022… In un mondo in cui… A me sembra che la musica sia sempre di più… Un… Cioè far uscire una canzone… E far uscire un post di Instagram… Cioè… La sto vedendo molto così ultimamente… Cioè… Ogni canzone è un post… Il post sta funzionando… Allora faccio un altro… Il disco esce… Deve essere al massimo live… Sì… Cartelloni… Settimana primo post… Settimana dopo finito… Settimana dopo… Devi fare un altro post… Quindi esci con un altro post… Un altro album… Devi uscire con un album… Oppure magari… Nel concetto… Quando voi facevate i dischi con i gemelli… Insomma… Io immagino… Quanto usciva un disco… Mediamente ogni due anni… A volte anche… Si arrivava anche a tre… Ma era una tempistica normale… Per la discografia di allora… Certo… Cioè se uscivi con un disco… Ogni due anni… Poi quel disco… Aveva poi una vita abbastanza lunga… Perché magari i singoli duravano… Cioè… Appunto… Un attimo ancora… Adesso non vorrei sbagliare le date… Ma… Veramente durò quasi un anno… La rotazione in radio… Stessa cosa Mary… Sì… Ora… A parte rare eccezioni… Super successi… Clamorosi… Vincitore di Sanremo… Ma neanche sempre… Sì… Un pezzo rimane in programmazione… Per un anno… Ma non dico… Che è così… Che poi passa ancora… Proprio in programmazione pesante… Quindi i dischi avevano una vita più lunga… Pian piano la cosa si è accorciata… E diciamo… Uno prolifico fa un disco all'anno… Certo… Io fondamentalmente… Sto facendo questa cosa… Perché in realtà… Se tu conti… Una delivery al mese… Un pezzo al mese… È come se fosse uscito un disco… Sì… Alla fine dell'anno… Sì… Però dandogli una forma diversa… E… Prolungandone la vita… Volutamente… Capito… È questo che… Che sto cercando di fare con la musica… Poi… Ovvio… Se arrivi… Tu mi chiedi ancora senso… Fare un disco… Dipende… Da quale momento è… Perché io vedo… Ci sono alcuni… Alcuni artisti che fanno… Adesso non vorrei dire un cavolato… Ma anche l'ultimo di Caparezza… Era un concept album… Insomma… Dove c'era un inizio… Una fine… Non ha senso perché la traccia… Io sono fan del concept album… Anche a me piace quell'idea lì… Danno senso a un disco… Ma io mi immagino più l'artista che insomma… Lavora su un disco… Perché ci mette dentro l'anima… Ci mette dentro la vita… Ci mette dentro se stesso… Quindi ci mette dei mesi a tirar fuori certe cose… Poi esce il disco… Con le canzoni… Ok… La promo che dura qualche giorno… Poi dopo una settimana… Non esiste quasi più… O comunque viene… Un attimino… E questa comunque… Vedi… È la percezione che ha la gente… Ed è brutto… Perché… Ma è così con tutti… Io immagino anche chi fa una serie… Una serie televisiva… Cazzo… Ci lavora un anno per produrla… Anni magari la sognata… Poi escono tutte le puntate insieme… Uno solo guarda in una notte… E il giorno dopo… C'è un'altra cosa… E poi aspetti per tre anni… La prossima serie… La prossima serie… No… È vero… Va tutto veloce… Però torniamo al discorso di prima… Senza sembrare boomer… È cambiato tutto… È il mondo di oggi che va più veloce… In qualunque cosa… Anche… È il consumismo sfrenato… Certo… Non voglio sembrare quello… Il sociopatico… No… È vero… È il consumismo sfrenato… Anche… Nelle cose non materiali… Cioè noi ci annoiamo subito… Di quello che compriamo… O di quello che ascoltiamo… Di quello che vediamo… E abbiamo una tecnologia… Che ci permette di fruirne ad una velocità incredibile… Siamo la generazione che deve imparare… Ancora… Giorno per giorno… Come… Come dosare… Capito… Questa… E lo spero… Si raggiungerà… Un equilibrio… Un equilibrio… Cioè impareremo noi a essere più veloci nel ragionare… Senza scannarci per niente… Con l'odio… Come succede adesso… Sotto i post della qualunque… Forse le cose rallenteranno un po'… Per garantire la qualità… Certo… Senza tornare come prima… Perché sennò poi sembra veramente che il mondo si fermi… Sì… Sì… E forse… Questo lo spero… Allargando il discorso… Impareremo anche noi a dare… Più valore alle cose… E non a volere tutto… A prescindere… Capito… Sì… Un po' anche a godercele… Probabilmente a godercele di più… Anche perché sennò appunto… Sei sempre alla ricerca di qualcosa… Non ti godi quello che hai… Ci sono più contenuti che ore della vita da vivere… Quindi fai veramente fatica… Sì… Che poi… Esatto… Per le nuove generazioni… Non siamo due vecchi… No… Rallentate tutto… Però bisogna anche essere consapevoli di non… Di non veramente perdere l'occasione… Sì… Di godersi le cose… Perché poi comunque… Anche l'attesa stessa… Il tempo poi non torna indietro… No… Il tempo non torna indietro… Ed è limitato… Certo… Il counter è limitato… Quindi… Sarà che… Sto cercando di diventare più saggio… Non so se ci riesco… Però cerco di vedere le cose in quest'ottica… E quindi… A volte vedo le masse impazzire… Perché vogliono qualcosa… Perché bramano qualcosa… E dico… Ma perché sono tutti interessati a questa cosa qua… Poi alla fine che ti serve a volte… E magari è una cosa materiale… Ma a volte è anche il successo… Certo… Io a volte vedo… O conosco persone che… Appunto guardi i social e hanno successo… Che poi sembrano fare una vita… Chiaro… Di merda… Scusami… No 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 è vero… E quindi dici… Ma è veramente successo quello… Sei veramente contento di quello che stai facendo… A quale… A quale prezzo… Quindi rivaluti tutto… Chiaro… Mentre invece i social… Tutto questo… Sui social non puoi… Non puoi mettere in discussione… Sennò perdi hype… No no no… Deve essere tutto patinato… Bello… E funziona così… E tutto realizzato… Sì sì sì… Dobbiamo imparare secondo me… Come posso dire… Ad accorgerci meglio del trucco… E a non sfruttare troppo il trucco… O meglio… Più reale… Più realness… Più ai ritmi che vogliamo goderci… E quella roba la gente comunque arriva… Perché poi… Arriverà l'equilibrio… Ma anche perché ci sono segnali… Come dicevi tu… Torna la voglia di rappare… Secondo me è un segnale… In un certo senso… Torna la voglia di ascoltare i dischi… Perché magari escono un disco come quello di Marrakesh… Un bel concept album… E la stessa gente che diceva… Eh ma non ha più senso nel 2022 fare un disco intero… Invece torna a dire… Cazzo… Belli gli album interi… Cicli… E anche un periodo in cui… Tanti che hanno iniziato con te… Con voi… Insomma in quel periodo lì… Col passare degli anni io mi ricordo che ovviamente era… Eri considerato uno sfigato che magari ascoltavi certi artisti o… Perché gli stessi artisti erano considerati sfigati… E oggi mi fa impressione che quegli stessi artisti invece vengono osannati… Ma magari ancora non è uscito l'album, non è usciuta la cosa… E già c'è quello status di leggenda… Cioè il tempo in mezzo… Il tempo fa miracoli da un certo punto di vista… Cambia tantissimo le cose… Sì… Ma anche perché adesso c'è un po' la tendenza… Ha veramente… Dover autoproclamarsi… Arrivati… Sì… E quindi veramente… Vedi gente che… A me sembra… Perché… Un po' lo sono stato anch'io in una parte della mia vita… In preda all'euforia del successo, della notorietà… Sai quando dicono… A quello… La notorietà… Gli ha dato la testa… Gli ha fatto male… Il problema è che te ne accorgi subito… Perché lui non se ne accorge subito… Certo… Ma dopo il primo step… Certo… Alcuni si rivelano per quello che sono… Diventano subito antipatici… O… Dicono… Vai sono arrivato… Ce l'ho fatta… E il mese dopo spariscono… E la gente è online… Non vede l'ora di dire… Certo… Ma scusa… Non eri il re… Quindi… Ci vorrebbe un po' più di calma… E dire… Ok… Bene… Ho fatto un pass… Adesso devo fare un altro… Un altro… Un altro… E poi ovviamente… Gli step delle carriere sono innegabili… Non c'è neanche bisogno di doverlo stare a dire tu… Capisci cosa intendo… Però una carriera secondo te ha bisogno delle volte di fare… Assolutamente sì… Secondo me una carriera ha bisogno… Ma anche perché… Quando tu arrivi che… Dici… Ok ce l'ho fatto… Ho raggiunto tutti i miei scopi… La gente mi riconosce per strada… Mi regalano le cose… Perdi in automatico… Ma anche se tu non lo vuoi… Perdi degli stimoli… Perdi la fame… Sì… Il fatto che magari una carriera torni giù… Se hai voglia… Se non ti lasci abbattere… Ti ricrea quella fame lì… Certo… Te la risveglia… Qual è quella cosa che ti ha fatto capire… Magari all'inizio… Comunque quando… Quando eri all'apice del… Del… Del tuo percorso… Che… Che era cambiato qualcosa… Cioè che effettivamente dici… Cazzo… È successa questa cosa e… Vuol dire che… Non dico ce l'ho fatta… Ma… Cacchio… Questa roba qui… Sono in cima… Allora… Non ce n'è… Non ce n'è… Una… Sì… Per la mia esperienza… Ci sono state… Diversi… Stavo guidando… Mi sono dovuto fermare… Capito… Per farti capire l'impatto emotivo… E lì ho detto… Sono su Radio DJ… Non lo so… Può essere capitato a te… È la prima volta… Che ti sei ritrovato lì… Certo… E poi allo stesso modo… Mi colpiva all'inizio… Poi è diventata la Prassi… Il fatto che ci facessero… Entrare gratis nei locali… Dove fino all'anno prima… Non ci facevano entrare… Quindi quella cosa ti dava proprio l'impressione di dire… Comincio ad avere in mano le chiavi della mia città… Capito… Quei posti dove prima io non potevo entrare… Ora mi vogliono lì… Sì… Che è una cosa… In realtà nella vita non vale niente… Ma ti dà… Ti dà quel segnale… Capito… E poi altre… Non lo so… Io poi… Il premio di MTV… Quella roba lì… Era una roba che per me… Era un'icona di quando ero bambino… Lo vedevo in mano ai miei idoli… Quando mi sono ritrovato il mio in mano… Con scritto grido… Non è tanto il premio… No no… Era quello che rappresentava… Il simbolo… La generazione MTV… Era quel simbolo lì… Quella roba lì non torna più… Cioè non esiste un equivalente… Guardare quello a me rimette insieme tutto il TRL… Tutte le date… I concerti… Tutti quegli anni… E quindi… Dov'è adesso quello? Adesso quello è in casa mia… Io sai… Non ho i dischi di platino appesi… Non ho… Non ho certificazioni… Non ho premi… Li custodisco… Ce li siamo spartiti… Certo… Anche alcuni… Quelli dei gemelli… Ma non… Non mi piace averli lì appesi… Come se fosse la cosa che la gente entra… Oh… Devo guardarlo il mio altarino… Ma anche quella roba lì… Cioè… Ma non che sbagli chi lo fa… Se non sbaglio c'è… Robby Williams tiene qualcosa nel bagno… Non so se è un gremio… No ma poi… Cioè… Poi… Per l'amor di Dio… Invece nelle case discografico… Quello sono affascinato… Sai… Quando entri ci sono i corridoi infiniti… Di dischi di platino… Di vari artisti… È bellissimo… Certo… Mi piace… Però mettermi in casa o nel mio studio… Tutti i miei… Non lo so… Mi pare una cosa egocente… È come mettersi… La gigantografia col tuo ritratto… Capisci cosa intendo… Però quello ce l'ho invece… Quello ce l'ho e ce l'ho messo lì… Che ti guardi così… Con i suoi led che ti illuminano bene… Ma come funziona invece… Cioè quando… Uno sa ormai più o meno quando finisce un matrimonio… Più o meno che cosa funziona… Adesso tu prima parlavi di spartirsi… Anche dividersi i premi… Quando si scioglie una band… Che cosa succede? Anche lì… Non credo che ci sia… Una prassi… Una prassi… A volte litigano pesantemente… A volte si sciolgono per business… O perché invecchiano… Certo… Noi ci siamo sciolti perché… O meglio… Io in primis ho lasciato la band… Poi anche Takagi… Certo… Perché diventava complicato fare musica insieme… Non che noi non andassimo più d'accordo… Eccetera… Ma… Ritrovarsi in studio… E fare delle canzoni di cui eravamo veramente soddisfatti tutti e quattro… Stava diventando un lavoro… Sempre a… A cercare dei compromessi nella musica… Sai magari io facevo una strofa che mi piaceva perché era bella pesa… Con tante rime… Certo… Mentre invece… Non è successo così… Certo… Però faccio degli esempi a caso… Takagi diceva… No… Dobbiamo… C'è troppo… Dobbiamo… Sì… Comunque ognuno aveva un'idea… Diversa… Da singoli… Ok… Da star singole che uscivano dai talent e robe… E non tanto le band… Ok… Però non lo so… Magari questa cosa no… È solo una percezione che ha avuto… Però assolutamente non è… Non ha riguardato quello… È stato proprio una cosa legata ai nostri rapporti personali… Ma nel senso di lavoro in studio… Poi non c'è stato nessun litigio clamoroso… Sì… Rotture di rapporti… Anche perché poi lì… Cosa succede dopo? Basta… Mi sentivo di non… Di non rispettare più la promessa che ci eravamo fatti… Sai… Noi eravamo insieme per fare musica… Per essere contenti di quello che facevamo… Per rappresentare il quartiere… Certo… Quando questa cosa non c'era più… E diventava uno sforzo… Mettersi lì a ricrearla… Io a un certo punto non ce l'ho più fatta… Sì… Sono stato sincero con gli altri… Ho abbandonato la band… Poi nel frattempo io sono diventato anche padre… Quindi diciamo che ho preso un anno in cui… Oltre alla musica… Mi sono anche preso del tempo per me… Capito… Quindi… Al di là della mia carriera… Proprio come persona… Certo… Ho voluto stare vicino alla mia compagna… Vedere i miei figli… Cioè… A proposito del tempo che poi non ritorna… Io ho detto ok… Posso avere da fare anche i concerti più grandi del mondo… Ma la nascita di mio figlio… Stare accanto a lui… In quel momento lì… Per me vale più di tutto… Certo… Ho scelto di fare così… E poi… Insomma… Quando poi ci si lascia… Ci si smette di sentire… Cioè… Come funziona… Anche lì è diverso… Ci si sente meno… Chiaro… Ci si dividono i dischi… No… 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 E certo… Per tutti e quattro… E noi scesi dal palco… Ce lo giocavamo… Ah davvero… Veramente carburando… Come… Come in piazza… Ok… E quindi… Alcuni ce li siamo spartiti… Di cui uno… Collettivo… Di TRL… Ok… Ce l'ho io… E questo ero… Ero curioso… E… Chiudendo poi questo discorso… Ma… Io ci ho pensato tante volte in questo periodo… Non ho avuto il coraggio di dirlo… Mi è venuto in mente una volta che erano con… Con Takagi… Che era THG all'epoca… Però… Vedendo anche un po' quello che succede adesso… O che è successo… Insomma… Vedendo anche tante band storiche di quegli anni… Che adesso… Sono anche un po' ritornate… Voi avete mai pensato che esisterà un momento… C'è un momento in cui… Potrà esistere una… Una reunion… Anche celebrativa… Di quello che avete fatto… Cioè secondo me… Dopo un tot di anni… Pensato sì… Nel senso che… Ciclicamente… Qualcuno… Perché viene giù tutto secondo me… Se lo fate… Lo propone… O mette la pulce nell'orecchio… Come stai facendo tu adesso… Realisticamente parlando… Proprio pensando alla cosa che arriva… Da noi… Non lo so… Cioè sono sincero… Non… Non ci ho mai davvero pensato fino in fondo… E credo neanche gli altri… Ok… Quindi per adesso… No… Per ora… Anche perché avete… Diciamo… Intrappreso delle strade… Tutti più o meno diverse… Diciamo… E quindi… Però… Siccome mi sembrate… Tutti abbastanza… Comunque contenti… Della strada che state facendo… Cioè farlo… Può essere anche visto… Come una celebrazione… Esatto… Ci vorrebbe veramente… Qualcosa di grosso… Che faccia scattare la scintilla… Perché… Per come stanno adesso le cose… Appunto… Rimettersi insieme… Per… Non lo so… Sfruttare un brand… Perché è l'anniversario tale… Dell'uscita… Non suonerebbe bene… Non suonerebbe bene… Soprattutto per i motivi che ti dicevo prima… Però sai… Quando ho rivisto… Ormai sono passati tre anni… Quando ho visto… Quando sono tornati gli articoli… Che hanno fatto quelle serate speciali… Beh allora vedi… C'è stato un evento… C'è stato anche proprio… Un riavvicinamento personale… Sì… Anche… Quindi… Deve succedere qualcosa… Deve succedere qualcosa… Se succede qualcosa… Poi quella roba lì viene trasformata in energia… Esatto… Che finisce su un palco… E la gente sotto ne gode… Perché io sono certo che… Vedendo adesso… Ricito l'effetto dell'altra sera… Mi è capitato un miliardo di volte… Cioè… Secondo me dopo un tot di anni davvero diventa tutto lì… Ma perché tu sei un nostalgico… Dai tu non nascondi ma un po' sei un nostalgico… Un po' sì… Un po' sì… Ma mi rendo conto… La nostalgia quella sana… Sì dai quella sana… Cioè con un occhio comunque alle cose che succedono… Secondo te a proposito di quello che succede oggi… Chi… La scena di oggi… In che cosa secondo te è avvantaggiata rispetto a voi… E in che cosa invece secondo te è penalizzata rispetto a voi… Allora… Avvantaggiata dal fatto che… C'è più storia alle spalle… E quindi se vuoi… Se ti interessa… Puoi conoscere tutti gli errori che hanno fatto gli altri prima di te… E non rifarli… E poi che la tecnologia di adesso ti permette veramente di fruire di qualunque cosa… Ad una velocità incredibile… E quindi hanno più input… Cioè loro possono imparare come rappare… Come diventare dei grandi producer… A dieci volte la velocità a cui era permesso farlo a noi… Capito… Proprio per via della tecnologia… Questa può essere un'arma a doppio taglio… Ovvero che tu puoi prendere e buttarti senza ancora sapere bene come si fanno le cose… O può essere uno strumento meraviglioso che ti permette di… Veramente di diventare un genio… E diventare di far esplodere il tuo talento in pochissimo tempo… Cos'hai contro… Contro… Che… Purtroppo l'altra faccia della medaglia… Ovvero che andando tutto così veloce… La tua carriera può esplodere in un secondo… E poi finire nel dimenticatoio… E tu non essere pronto come persona… Cioè non… Cioè vieni subito esposto a qualcosa forse più grande… Non tutti sono pronti… Forse più grande di te… Non tutti sono pronti… E magari questa cosa può… Io vedo alcuni che vengono bruciati… Vengono distrutti… Come se si fossero giocati la loro chance… Magari invece un ragazzo di 18 anni che ha fatto un pezzo figo… E quello dopo lo sbaglia… Non per questo deve finire la sua carriera… Certo… Invece adesso a volte succede questo… Ti basta… Non beccare il singolo dopo… E siccome ne sono già arrivati altri cento… Possono dire… Ah questo comunque era un fuoco di paglia… Allo stesso tempo non te ne basta farne uno solo giusto… Magari anni fa… Prima ancora di voi… Bastava che azzeccavi un singolo… Due singoli… Ci campavi quasi tutta la vita… Allora prima di noi… Prima ancora prima… Abbiamo visto… Noi siamo arrivati… Fini… Fini anni 90… 2000… Quando i dischi si vendevano ancora… Ma stava finendo la festa… Ok… Quindi i grandi singoloni… Quelli che poi ti facevano comprare le ville milionarie… Come i cantautori… Stavano finendo… Sì… Sì… Però… Sì… Diciamo che… Forse non tanto economicamente… Ma era più legato proprio alla vita delle canzoni… Quindi… Tu pian piano potevi costruirci… Portare avanti… Continuare… Guadagnarci… Adesso… Magari tu sei primo negli streaming… Quegli streaming non pagano… Come… Quando erano primi in classifica… Morandi… Adesso non lo so di preciso… Ma credo molto… Molto meno… Ovviamente… Se poi la cosa continua… Ci sono anche i live… Ci sono le sponsorizzazioni… Ci sono i brand… La torta diventa grande… Ok… Ma se rimane primo posto negli streaming… E poi finisce tutto… Purtroppo veramente non… Non capitalizzi… La gente ti vede… Primo in classifica… Ma tu non hai ancora… Sono pochi quelli che portano davvero… Ma questo succedeva anche prima… C'è un'intervista di Fabri Fibra… Sì… Dove lui dice… Cazzo… Io ero famoso… Mi conoscevano tutti… Mi fermavano per la foto… E vivevo in un monolocale… Sì… Ok… Perché a volte… La gente ha la percezione che tu… Ce l'hai fatto… Sei già diventato un milionario… Sì… Soprattutto oggi… Che si fanno le stories… Con le barche a noleggi… Certo… E fingono che sono loro… E quindi… Pensano che tu hai… Sei già arrivato al top… E hai smesso di lottare… Invece la lotta… Continua… Non si diventa Puff Daddy… In un giorno… Il nuovo… Dopo non si costruisce Roma in un giorno… Però… Non si diventa Puff Daddy in un giorno… Anzi Kanye West… Dai… Non si diventa Kanye West in un giorno… D'altro molto bello il documentario di lui… Sai che non l'ho ancora visto? Guardalo… È molto… È molto figo… Perché in qualche modo… Racconta anche quei momenti… Mi ha colpito molto… Come lui ci credesse tantissimo… E gli altri no… Come spesso… Come spesso accade… No… Però se tu non sei fortemente emotivo… Cioè lui era sicuro che sarebbe diventato Kanye che abbiamo in mente oggi… E andava in giro per le etichette e nessuno se lo cagava… Pensa… No… È incredibile… E c'era questo suo amico che comunque già da allora aveva iniziato a riprenderlo… E quindi c'è del materiale pazzesco per raccontare questa cosa… Voi anche avevate avuto questa difficoltà all'inizio nel convincere gli altri… Assolutamente sì… Ma infatti il primo disco dei gemelli… Stiamo parlando solo dei gemelli diversi… No… No… Adesso siamo andati indietro… No… Comunque… Il primo disco fu coprodotto… Oltre che da Franco Godi… Dagli articolo 31… Sì… Perché in realtà Franco era il nostro produttore… Credeva in noi… Sì… Ma eravamo comunque un rischio… Certo… Quindi lui chiese di assumersi proprio economicamente… Parte di questo rischio… Sì… Poi hanno fatto bene… Direi col senno di poi… Le radio sono state una battaglia grandissima per noi all'inizio… Abbiamo dovuto veramente prendere un furgone da muratore… E girarci l'Italia… Noi a volte dormendoci anche dentro… Per andare a farci conoscere… Per andare a dimostrare che questa cosa del rap non era le corna… Come ci chiedevano di fare… Cioè… C'erano fatte le corna… Sì… Nelle foto era un classico… Fatte le corna… Spiderman… Esatto… Che poi uno le fa anche… Ma sì… Ma… Ti infastidisce il fatto che te lo chiedano… Certo… Se ho voglia di farle lo faccio… Non sono un pupazzo… Faccio quello che voglio… Ma… Anzi… A volte… Magari tu lo stavi facendo… Un gesto per il quadri… B1… Roba così… E loro invece ti dicevano… No no… Falle più così… Ma come falle più così… No… Questo in che anni succedeva? 99… Eh… Ok… Ok… Quindi… Ma te ne posso citare varie… Cioè… Quando abbiamo proposto Mary come singolo… C'è stato detto… Risposto… Dall'allora nostra casa discografica… È una canzone triste… Nessuna radio vorrà passarla… Mh… Noi siamo andati dritti… Ebbè… C'è sempre… C'è sempre chi ti dirà… Che stai sbagliando… Certo… Sta a te… Capire… Se chi te lo sta dicendo… È qualcuno che magari… Non ti vuole abbattere… A prescindere… O ha un'idea sbagliata… Mentre tu ci stai vedendo lungo… O… O il contrario… È difficile… Infatti… Non c'è una ricetta in questo… Vale anche per grido oggi… Questo assolutamente vale per grido… Perché… Appunto… La ricetta non esiste… Ma io cerco… Con tutto me stesso… Di fare quello che piace a me… Di essere contento io… Di quello che faccio… Poi ovviamente sto… Attento anche a quello che pensano gli altri… Di quello che faccio… Ma cerco di non farmi… Influenzare troppo da questo… Magari… Un… Una critica… Ti può far riflettere… Ti può far analizzare dove hai sbagliato… Però non devi cadere nel fatto che… Per ascoltare le critiche… Allora devi anche stare dietro al hater… O a quello che ti dà… Del fallito… Del vecchio… Di quelle cose… Perché… Quello fondamentalmente è un bulletto… Che cerca di metterti… Certo… Il seme del male dentro… Ti devi capire… E qual è stata… E qual è magari tuttora… O comunque la difficoltà che hai tu… Magari ogni tanto… Durante il tuo percorso… Che hai avuto all'inizio… Quando ti sei voluto buttare anche da solo… Perché non è facile… No… Guarda… La cosa… La cosa più difficile è trovare… O meglio… Non più difficile… La cosa secondo me più importante… Che per fortuna ora non è difficile… È un… È un obiettivo che mi pongo ogni volta… E… È fondamentale che ci sia… Altrimenti perderebbe di senso tutto… Ed è… Essere… Come ti dicevo prima… Orgoglioso di quello che sto facendo… E quindi… Una volta che io… Registro una canzone che… Come posso dirti… Che soddisfa questo requisito… Io sono a posto… Poi tutto quello che può avvenire… Se la canzone funziona… Se arrivano tanti streaming… Se arriva… È una conseguenza… L'amore degli altri… È una conseguenza… Esatto… Bravo… La parola giusta… Conseguenza… Il successo… È una conseguenza di quello che tu vuoi fare… Non deve essere il fine ultimo… Perché se il tuo fine ultimo è… Avere successo… Secondo me stai sbagliando… Perché… Quando poi lo tieni… Basta… È finito tutto… Se invece il tuo scopo è fare una rima che spacca… È fare… È trovare un beat che ti diverta… È divertirti a lavorare insieme a Mastermind in studio… Come nel mio caso… Poi può anche non succedere niente… Ma tu… Sei contento di quello che fai… Capisci… Tu ti ispira qualcuno oggi… Oggi… Mi piacciono tantissimo… Però… Appunto… Mi ispiro… Ma più come figure… Che mi piacciono… Non vuol dire che vorrei somigliare a loro… Però… Will Smith… Anche se… La controversa… Senza schiaffo diciamo… Il controverso schiaffo… Che hai citato però nella… Nella delivery… Esatto… Sai che ho pensato anche se citarlo o no… Perché avevi paura forse… Perché avevo paura che fosse… Io ho talmente tanta stima e rispetto di Will Smith… Che… Ho detto… Magari può essere… Ho visto ieri sera… Ho visto ieri sera King Richards… Quello delle… Non mi spoilerare niente… No, no… È incredibile… Guardalo… Guardalo appena puoi… Che ho detto… Forse può essere letta questa rima come una mancanza di rispetto… Poi invece l'ho fatto lo stesso… Perché ho detto… Vedi… Comunque… I lati oscuri fanno parte della vita di tutti… Anche se sei Will Smith… Anche se sei il principe di Bel Air… E quindi lui è una delle tue ispirazioni… E lui mi piace molto nella… Cioè… Come appunto… Come attito… Lui è stato anche uno… Bravo a interpretare il cambiamento dei tempi… Cioè è stato il primo a fare dei video su YouTube di un certo tipo… A investire lì… A investire su TikTok… Lui quando è arrivato sui social ne è diventato il king… Esatto… Di tre mesi… Esatto… E poi vabbè… Snoop Dogg… Forever… Forever… Per sempre… Chiaro… Rappresenta perfettamente la mia filosofia di vita per una cosa… Ovvero… Prima quando sei giovane dici… Die young… Live fast… Sì… 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 Secondo me invece proprio il top è… Die young… As late as possible… Ok… Ovvero… Muori giovane… Ma il più tardi possibile… Ma il più tardi possibile… Al limite del vecchio… Non essere cervellato… Cioè… Non essere un pazzo… Certo… E te ne freghi del tuo futuro… No, no… Pensa al tuo futuro… Ma mantieni vivo il bambino dentro di te… Cazzo… Questa secondo me è proprio la filosofia che ti può salvare la vita… Io questa me la segno e chiuderei con questa perché è veramente la massima… Poi ci troviamo a 70 anni sulle moto… Però ce l'abbiamo… Infatti se vai a vedere i nostri messaggi sono per lo più dei bambini dentro di noi che si scrivono… Assolutamente sì… E vedi che bello che si possono scrivere adesso… Cazzo sì… Alla velocità della luce… Quella è davvero… È davvero una figata… Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata… Per me è stata importante perché è andata insomma anche a… A rinserirsi in tutto dei discorsi… Io ringrazio te… E quindi quando esce il disco… Nel 2023… Però comunque… Guarda… No ci stanno salutando… Non dico niente… No no… Dilla… È incredibile… L'anno scorso dicevano… Ma ancora senso fare un disco… Eh… Quest'anno invece sta tornando… Stanno uscendo i dischi… Quando esce il disco… Mi piace… Mi piace… Ci piace… E allora non vedo l'ora di sentirlo… Bella bro… Grazie davvero… Ciao bro… Grazie a presto…